questa cosa dal lato opposto, bagliato anche il tiro di Varnado, la tripla, opportunità per Sneed, valore scaricato, ricapitato e schiacciato, Sneed, poi l'intercento di Olisevicius, schiaccia, 4 e quasi, situazione, questione di un passaggio e via, poco più, c'è Sposito, eccolo il passaggio, il parche, palleggio intanto, insistito da parte di Jeremy Senglin, prova a creargli spazio, si va all'angolo, anche il palla avventa su, Gia Shahid, Perre Young, Sneed a distaccionare tutto, Eurostep, di Brescia, tra Germani e A7, Polarmani, Milano, alle 17 dall'angolo, Maia Reijer, attenzione anche al 33, mandato in campo da Spachio, ovvero Kai Wiltshire, mentre dall'altra parte Sneed va in 1, ora Davide Moretti che si dà uno sguardo intorno, va a bloccare proprio Paulistein, va ad affidarsi subito ad Arlan, prontamente con Jackson, va a gestire ora il numero 3, sterzo su Laneo, poi lo scarico per Sneed! Aiuto di Lazeschi che rischia, il secondo fallo, ancora Gentile, aiuta Baier, va dentro Gentile, grande palla, Masneed! Alla fine se lo tiene Jeremy Senglin che parte, si ferma, la tripla di Sneed! Intanto l'attacco del recupero da parte di Treyer, post passo per Joff, contro Johnson, buono il passo di incrocio, che sto... Un gran lavoro, poi Gamble aiuta, Senglin da Sneed che parte, riscarica ancora Morris, grande attacco di Logan, il palleggio intanto arriva con la penetrazione di Jackson, e poi il palleggio resta il tiro di uno Sneed, conquistata adesso da Brindisi, proprio con Lombardi, Sneed che va ad appoggiare, subisce il... Lavora per linee esterne, Allen prova ad attaccare, la buona difesa in questo caso anche di Brindisi, poi lo split di... Ancora palla recuperata dalla formazione, ospite con Sneed, accontura il contropiede, dietro per Lazzeschi, il tiro di Lazzeschi, ancora un tiro... Kisling parte, l'aria sembra vuota ma si riempie, lo scarico arriva e Sneed! Palleggio resta il tiro da due, il rimbalzo, beffa alle gentile, Sneed lo attacca subito! Dopo aver preso il rimbalzo d'attacco, allora Sneed è già dalla parte opposta, però voglio andare fino in fondo per Lombardi che appoggia... Lombardi per Sneed che alza la parabola, un altro... Fuori da Sneed, ricezione ancora un po' complicata, tre secondi per Sneed, preferisce lo scarico in extremi... La squadra è stata la squadra di Rumunia, da Burga, in trecchio colo... Il rimbalzo, l'altri pareggi, partita è decisamente divertente da questo punto di vista, Sneed è cambiato di difensiva, Poggia, Camestro... Baljeche... Sneed... Il rimbalzo di Zelazzevski, il rimbalzo è il rimbalzo, ma... Per Paco, Giordano, Brindisi, ci riprova dall'altra parte, dietro la schiera per Sneed... Penetrazione, via fino in fondo... Slinga, il blocco di Mbaye per l'uscita di Sneed che prova ad attaccare subito Tucker nell'angolo per il tiro... Il consegnato per Micella... Fa girare il pallone Brindisi... Arriva il blocco di Mbaye per Sneed che si alza, tira in sospensione... Contro uno con Widdle... Sneed... Di fronte alle Willis il blocco... Sneed può accelerare verso il canestro... A superare la metà campo, sempre franco bollato da Spissu... Sneed... Parte la giocata due con Mbaye... Laseski per... Senglin in penetrazione... Sneed va in mano... In angolo, la tripla sbagliata... Rimbalzo però di Sneed dal lato debole sull'errore di Laschet... Treviso senza suo pivot titolare... Sneed proprio contro mezzanotte... Si alza col tiro... Va a realizzare la... Morris... Con Sneed che prova ad attaccare adesso... Provo Casarini... Si alza per il tiro in sospensione... Smasso... Movimento poderoso da parte di Lombardi... Lo scarico per Sneed... Lo scarico ancora per Johnston... Sospensione fuori equilibrio da parte di Saccaggio... Il rimbalzo di Sneed che può correre... Sospensione dalla lunetta... Chiusa con le sue solite cifre... Solite nel senso... Quasi 12 punti... Quasi... Più di 5 rimbalzi... Quasi 3... E ribaltare dall'altra parte... Dove Jackson... Trova la penetrazione... L'assist... E alla fine Sneed... Da 2 punti... Bencius... Attacca a Brindisi... Lo fa con... Kisnik... Gran pressione su... Baie... Da parte di Aralan Popolos... Tiro da 3 punti... Errore di troppo... Non perde la fiducia... E prova a scrivere un secondo tempo diverso... Che... Assist di Jamel Morris... Palla non facile da raggiungere... Adesso lì c'è la riva... Arrivato... Anzi... Molto aggressivo a Napoli... L'uomo aperto... In angolo... E Sneed...